Mi piacerebbe molto lavorare a un progetto personale prima o poi, perché amo confrontarmi con personaggi diversi, anche linee stilistiche editoriali diverse, generi quindi narrativi diversi, per cui non so, prima o poi spero di poter fare qualcosa di mio al cento per cento. Tra i fumetti esistenti per i quali ancora non ho lavorato mi piacerebbe forse confrontarmi con un genere narrativo diverso ogni tanto, nel senso magari qualcosa d'azione o qualcosa di intimista, drammatico, non so, anche per mettere alla prova, comunque mettermi alla prova stilisticamente dal punto di vista proprio della narrazione. L'ultimo lavoro che ho fatto e per il quale ancora sto lavorando è Tangle, il libro illustrato di Tangle, cioè Rapunzel, la serie animata 2D, molto grafica, molto spigolosa e divertente. Mi sto divertendo molto. Cosa consiglio ad un aspirante disegnatore? Sicuramente di disegnare tutti i giorni molto, questo è un consiglio abbastanza scontato, ma sicuramente confrontarsi con gli autori ingesistenti, ma cercare comunque una propria strada, cioè cercare di divertirsi mentre disegna e capire qual è lo stile che lo diverte di più e quindi trovare prima appunto la sua strada dal punto di vista stilistico e poi trovare la propria dimensione, la propria natura disegnando attraverso il divertimento perché è quello, diciamo, il parametro che fa capire a chi somigli, cioè qual è il tuo spirito dal punto di vista del disegno. Grazie a tutti.